Aaaaaaaaaaah che schifo porca troia Aaaaah Non so con la pelle d'oca porca madonna La panda ant Una madonna Sì sì Grazie Ora ora lo vedo Quindi ti fa Un po' del bruciore ti diventa la zona tutta e terrati un attimo e questo era praticamente una formiga una formiga che fa tutto quello io non pensavo che le formighe avessero un bungiglione e fanno male e facessero male non pensavo invece andiamo un po' a vedere giant 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 horn qual è? giant hornet na madonna la prima? stung by giant orco di avala morta un calabrone? non lo so ragazzi ma quello che so è che sto coiote Peterson è qualcosa di incredibile io non ho mai visto nessuno che si fa a morde ma fammi se c'è sta tipo qualche animale che mi fa paura angry brown snake in toilet poco fa stavo a parlare della paura del bagno del cesso mio dio immagina dio cristo immagina vai in bagno con la luce spenta metti i piedi scalzi sopra il tappeto e ti vedi questo serpente che scappa da fuori e ma in realtà se scappa è peggio eh se scappa via quello di piatto che droga se mangia e devi stare attento ma perché proprio in Australia tutte ste cose gli succedono? poi in Italia niente io stavo camminando e camminava ma se mangia? ma no madonna porca troia sai che bontà non la mangerei mai ho la carne di serpente mai ho mangiato la carne di struzzo carne di serpente come la carne di gatto o la carne di cane porca troia ah comunque ieri sapete quanto ho pagato ieri? ieri ho mangiato proprio come un porco a sbafo in un ristorante ho pagato di meno con tanto di dolce finale dolce 20 arrosticini a testa più bruschette patate e patate e patate e olive tartufate olive alla scuola tartufate vabbè erano 4 olive 4 4 olive tartufate pure belle piccolette però abbiamo pagato sulle 55 55 euro 55 in più 4 coca cole 4 coca cole in vetro 4 coca cole in vetro 55 60 euro di là invece 75 euro per 10 più 10 arrosticini in più e abbiamo mangiato del merda sui tavoli can be considered deadly it's more so considered dangerous no 55 in due in due vabbè ho 30 euro a testa comunque è tanto eh 30 euro a testa è tanto se uno ci pensa 30 euro è tanta roba però vabbè ogni arrosticino costa un euro un euro arrosticino 20 arrosticini a testa già 40 euro più metteci 20 euro per le coca cole olive e tutto coperto e tutto oh ci sta come prezzo grazie mille jacobato 10 mesi di resab ciao bellissimo come stai grazie grazie mille con chi ah con chi non si può di con chi non lo dico però ho mangiato bene ah romina sta ancora qua ma romina che sbarro ma là in spagna ce l'hai là in spagna ci stanno sti serpenti gli animali io ci avrei una paura io non vado all'estero solo perché ho paura de de sta roba de sti animali preferisco restarmene in italia perché all'estero non sai quello che magni non sai che animali ci stanno ci può stare animali ah serpenti alla brace beh in italia che c'è sta le roba velenosa mortale vabbè le zanzare quello vabbè possono le zanzare io ho saputo che c'è le malattie che vengono con le zanzare le malattie cioè ci stanno delle zanzare che è proprio le vipere no madonna una volta c'è stata una vipera dentro casa è entrata una vipera mi madre tipo provava tipo stava lì con la scopa e scopa e paletta stavo cercando la vedova la vedova nera che è la vedova nera ma che è la vedova nera è stata una vipera è stata una vipera che è stata una vipera un bacio enorme grazie mille nell'immaginario comune i ragni sono animali che difficilmente ispirano la simpatia delle persone fin dall'antichità le caratteristiche fisiche e comportamentali di questo animale lo hanno reso una creatura quasi leggendaria dando luogo a credenze storiche come il fenomeno del tarantismo il tarantismo e che cazzo è il tarantismo il fedelismo HS il fedelismo il fedelismo ma scusate ma voi vi fa paura i ragni vi fa schifo a me fanno schifo tipo i calabroni le vespe proprio non riesco manco proprio ma i ragni non mi fanno paura mi fanno schifo più che altro in questo paese sono davvero pochi i ragni realmente pericolosi per l'uomo e tra questi possiamo considerare tali il ragno violino l'oxo-shellus rufusens del quale si sente spesso parlare specialmente negli ultimi anni e la specie che stiamo cercando oggi la malmignatta il cui nome scientifico malmignotta spider-man anche poi uno lo sa che spider-man ragazzi ci sta pure la versione nera di spider-man io non lo sapevo una mia ex non voglio far nomi mi ha regalato una volta sto portachiavi con con lo spider-man nero io ho detto ma che cazzo ma chi è questo ah è Venom si era Venom Miles Morale io ste carte quando uno me nomina ste cose vabbè perché io gioco Marvel Snap mi sto appassionando il mondo di Marvel Snap della Marvel con Marvel Snap appunto ma poi Miles Mirale non è una carta cioè dovrebbe essere un uomo non è conosciuta anche con il nome di vedova nera mediterranea la malmignatta è una parente stretta di uno dei ragni più temuti al mondo la vedova nera americana l'atrodectus mactans bene oggi ci troviamo nelle campagne laziali proprio per cercare di osservare da vicino un esemplare di vedova nera mediterranea na madonna c'è sta mio cugino che è uno appassionato dei rettiri alciati tutto a casa ragni vipere pitoni c'ha c'ha di tutto e di più io non lo so quello come fa c'ha la bacheca sua c'ha il posto suo dove tiene tutti i stirettili tutte ste cose io non ce la farei mai non ce la farei mai proprio zero 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 ecco tra una cosa che non ho detto prima la mia ragazza ideale non deve avere questo tipo di passioni perché altrimenti non iniziamo sulla stessa lunghezza tonda mi dispiace quindi per spiegare come agisce il suo veleno quali sono i suoi effetti ma soprattutto cosa rende questa famiglia di arachnidi una delle più temute al mondo eh perché sapete da cosa deriva il nome vedova nera? no perché ha ucciso il marito e poi stava incazzata nera con con questo ragno non lo so immagino non lo so non lo so grazie mille 32 frezzi ciao bello 9 mesi di resab come stai? beh questo termine ha origine dal fatto che una volta terminato l'accoppiamento le femmine di questa specie sono solite divorare il maschio rimanendo per l'appunto vedove oh funziona così pure nella vita reale? cioè pure con gli uomini? cioè che metto in ginta una poi mi ammazza quella? me se magna? sebbene questa pratica possa sembrare barbarica agli occhi umani in realtà per la natura ha molto senso tanto che ad adottarla sono diverse specie animali tra cui le mantidi infatti se ci pensate il fatto di avere a disposizione una fonte di cibo è certamente utile alle femmine per assumere l'energia sufficiente a completare poi il ciclo riproduttivo beh per riuscire a trovare un bel esemplare di malmignatta dobbiamo prima sapere dove vai lungo la strada lungo la strada una madonna quando ne vedi il marmignote vive questo ragno gli abital che predilige sono aridi assolati ricchi di pietre di rifugi di anfratti dove questo ragno costruisce la sua tela irregolare e robusta e dove attende pazientemente che una prete ignara ne cada vittima cattaroia quando sento le cose qua che ho una paura io con questa musica mi sembra di vedere come si chiama quello super quark super quark devo dire però che è fatto veramente bene le riprese tutto ma spero che almeno mille euro al video ce la fatti lassù questo no no che mille euro peccato secondo me sto canale merita di più tutta la narrazione le cose ma di spiare però anche solo il fatto di registrare poi mette insieme tutte le clip ce la fa per passione le riprese le robe più bello più bello lui nasce una geografica non lo so doveva trovare sotto le pietre ecco una bellissima femmina adulta femmina adulta eccola qui bellissima na madonna ma io ma na madonna io con il cazzo che vado in gambagna guardate che colori sgargianti il rosso in natura è un cosiddetto colore aposematico giallo l'azzurro e l'arancione questi colori sono dei veri e propri messaggi di allerta che avvertono il predatore della pericolosità dell'animale e generalmente come in questo caso c'è un netto contrasto tra il colore di fondo in questo caso nero o talvolta può essere bianco ma salta ma salta questi oppure camminano e basta tipo te possono saltare addosso colore aposematico in modo da rendere ancora più chiaro più evidente il messaggio di allerta come potete notare si tratta di un animale di piccole dimensioni le femmine di questa specie possono raggiungere una lunghezza massima di un centimetro e mezzo mentre per quanto riguarda la colorazione è caratterizzata da un nero lucido di fondo cosparso di queste piccole macchie rossastre e perché lo rendono l'animale più pericoloso per l'esattezza sono 13 e proprio da questo deriva il nome scientifico 13 inguttati per quanto riguarda la venenosità della malmignatta c'è da fare una premessa infatti ad essere pericolose per l'uomo sono solo le femmine i maschi di questa specie oltre ad essere nettamente più piccoli rispetto alle femmine e di conseguenza il loro morso non è neanche in grado di trafiggere la pelle umana sono anche meno aggressivi il veleno delle dimensioni per due principi e beh se uno non le mette in confronto con le tarandole che so cammina veloce minchia 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 del ragno la malmignatta la morde iniettando i suoi potenti succhi gastrici così da liquefarne l'interno infatti abbiamo 0 porco dio che paura porco dio che paura che paura porco dio che paura oddio stavo concentrato che paura porca madonna che paura che paura grazie mille padre nerchia grazie mille 22 mesi grazie mille bellissimo perché la riede si chiama riede perché se lo sbatti non si rompe ecco appunto l'altro giorno stavo a far vedere la riede stavo a far vedere una ragazza sta roba della riede sapete perché si chiama riede si chiama riede perché sono spacchi non si rompe cazzo che è o la madonna che è qua ah no qua non posso far vedere ma che è successo qua che ci ho campato che l'è che l'è ci ha campato lo speculo dio eh no è difficile raga perché oh dio peso si metti on sia uno quell'altro sia una che l'altra cassa cazzo donna non si spaventa impossibile allora ragazzi qua era non era una non era una cassa sola adesso c'è una cassa sola però sotto il culo ma lì ne erano due cristo dio è una madonna mi ha fatto un po' la peraria sono una donna sono una madre sono un cristiano anche sono una puttana no sono una puttana che cazzo è che cazzo è dalla marca che avevo fatto latte caffè latte caffè latte caffè arancia madre cazzo è Dio che roba Cioè ne stiamo tutta per te che cazzo faccio? Non è che Un bella ragazza Che schifo Vabbè dai schifiamo Grazie grazie mille Eccolo come musco F Non è non è non è non è Mi sono scendato Ok ho voluto No no Cazzo No te prego no Affanculo Vole ammazza eh No Porca troia Porca troia E' steppini l'ho visto l'ho visto con i miei occhi E' ammazzato l'usilenne con i miei occhi Non non mi mettere steppini L'ha visto No io ti ho visto con i miei occhi ucciderla Cazzo Ti ho visto Ti ho visto cazzo e steppini Faremo compagnia Nell'iperspazio Ciao steppini Godo Alla fine era lui Questa torta ragazzi Mamma mia tanta roba Coppingo Coppingo cazzo Qua in mezzo Devi controllare Noi abbiamo preparato un gioco Ci sta una sorpresa per te Che ha detto Metti nel mezzo La torta che dopo L'ora devi cerca giù Allora mo ti faccio vedere Si sente pure l'odore Devi sentire l'odore Nenzi Oh bro Ah barcadino We're gonna be rich Voleva farmela eh Voleva farmela invece glielo sono fatta io Amore mi fatti dare un bacino Un bacino Vai via dio Che cazzo da rambo Grande bingo Piano riuscito Grande bingo Grande bingo Mallati madre Importante Qua tutti i gerogrifici un po' strani Qua ci sta tipo Ok qua Dio del dio della madonna Qua io Parliamo di fregna vai Vediamo 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 qua Qua sta ragazza che non mi ricordo Io vediamo io Matteo non guardare qui appunto Matteo Porco dio Porco dio ma che è Flavio è diventato un borcellino Come si chiamava sta ragazza Porca madonna Matteo Porca madonna Porca madonna ma che è Non guardare qui appunto Matteo Comunque i tuoi Il tuo outfit Il tuo outfit è molto bello e mi fa Venire il sangue Il sangue sul cazzo porca madonna Una del genere Non ha il cervello Non ha il cervello esatto Ti sto guardando Ebbè qual è Guarda me ecco me Sto qua ecco me Ma tocca essere streamer da Twitch Che ha fatto Io non bestemmio mai Bella mia Io non bestemmio mai Non bestemmio mai Dico solamente Cioè mo detto sinceramente Nemmeno me Cioè non è che mi fa un pazzista ragazza Però nel senso Per come sta vestita Per come Per quello Grazie mille Jack il capitano Otto mesi di resabba Grazie mille Cioè è una cosa che non si vede Su Twitch De solito E' una posizione pure Cioè Non c'è una stradina Ok Come sempre Zero Come sempre Zero impostore Tranne i kill Cioè gli impostori E' una madonna santa All the channel E' una madonna Quante robe Siamo fatta Cristo dio Oddio 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 Vediamo questo Che cazzo succedeva Prossimo esercizio Jumping jack Jumping jack Oddio Ma che cazzo Che roba fai Ma che è sta roba Così Così Continua Non ballare Continua Voglio il máximo Che puoi darmi Eccoci sei Ci sei Oddio Quando mi sono caricato Sotto sull'uburman No Donetta Dai Questa è una storia Sentita e risentita Ma non penso Che ci sta qualcuno Che gli interessa Risentirla da capo Grazie Donette Grazie mille Jack il capitano Otto mesi Ciao bello Buonasera Già sentita Già sentita Io non la so Dilla 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 E niente ragazzi E' successo Che una volta Una sera Stavo a casa Ho mangiato pesante Ho mangiato Io mi ricordo Quando ero piccolo Che mangiavo Zerro Grazie E io mangiavo Troppo Mangiavo Quando ero piccolo Mangiavo 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 E Avevo mangiato tanto Mangiavo tantissimo Mangiavo Mi ricordo Che mi mangiavo Tipo Un ciambellotto intero Un ciambellone intero Con un litro di latte Da solo Per merenda Mangiavo Dici per cena Per merenda Poi mangiavo a cena Mangiavo dopo cena Mangiavo proprio Era proprio Un bellone Insomma Avevo mangiato qualcosa Che mi aveva fatto male La mattina dopo Pure avevo rimangiato Di nuovo Avevo rimangiato Poi a merenda Prima della scuola Quando stavo a scuola Ho mangiato a scuola Ho mangiato prima Dopo Durante le lezioni Tutto Cioè Era proprio Un pozzo senza fine E' arrivato E porca troia E' arrivato Il momento in cui Insomma Se stava Torno a casa Quindi sulla corriera Tutti quanti lì Sulla corriera Ad aspettare Io già sentivo Lo stomaco Che faceva Proprio le bolle pesanti Proprio Sentivo proprio Che boll Cioè insomma C'era qualcosa Dentro lo stomaco Che bolliva Non capivo Che cazzo fosse Sentivo che bolliva qualcosa Ma proprio forte Ma proprio sentivo Ma non ho mai sentito Lo stomaco Che faceva così Mai Una cosa enorme Entro dentro la corriera Entro dentro la corriera E appena ne metto seduto Sulla corriera Non subito Però dopo un po' Dopo 5 minuti Sento Che me scappa liquida La merda Ma proprio liquida La merda E Inizio Proprio A cagare liquido Dentro la corriera Mi ero messo Tipo a metà A metà Pullman Mi ero messo Mi ero messo A metà Pullman Mi ero messo Quindi ci stavano Tutti quelli dietro Che parlavano Chiacchieravano Quelli di fronte Che stavano Con le cuffiette A sentire la musica E io stavo al centro E mi sono Cagato No a spruzzo No a diarrea La dissenteria C'ho avuto un attacco Di dissenteria Pesante Liquida Era tutta acqua Non era merda Diciamo Ma era tutta liquida Oh Non ce la facevo A trattenere Non gliela facevo Più chiudevo Lo bucio Dello culo E più scappava La merda Non gliela facevo Mi ero smerdato Tutto Mi ero smerdato C'avevo C'avevo la merda Pure qua dietro La schiena Pure fino a qua Fino a qua Mi era arrivata La merda Fino a qua C'avevo la merda Tutta quando attaccata Era proprio piena De merda La maglietta Tutto pieno De merda C'avevo i pantaloni Lunghi C'avevo C'avevo i pantaloni Lunghi Praticamente Sullo sedile Se era tutto Smerdato Ma proprio Era pieno De merda Lo sedile Mana Mana Cagata Mi sono fatto So cagato Pure la madonna So cagato Lì Sul burman O a un certo punto Io trattenevo A un certo punto Niente So rilassato Il culo Ma è stato Non lo so Ma proprio So cagato Pesante Proprio Mi sentivo liberato Proprio Ma Una figura De merda C'è stavano Quelli dietro Che A me ricordo Quelli dietro Che apriva Quelli dietro Hanno aperto Lo finestrino Quelli dietro Hanno aperto Lo finestrino Con la testa De fuori Così Aria Quelli dietro Hanno aperto Lo finestrino De sopra Tutti in piedi Poi c'è stava Tipo davanti Tu vedi davanti Che tipo Iniziavano Tipo a girassare Loro Così Si sono tolti Le cuffie Così Si girava Tra di loro Così Si girava Vedeva dietro Ma che è sta Puzza De merda Tutti Poi Dice Porca Puttana E poi dopo Ci stava L'autista L'autista Pure L'autista L'autista Aperto Aperto Lo finestrino Guidava Con una mano Guidava Con due mani Guidava Lo coso Lo purman Con due mani E con la faccia Favano Lo finestrino Una puzza De merda Porca Madonna Una puzza De merda Porca Troia Mi ricordo Che sulla fermata Quando si è fermato L'autista Un attimo E' sceso pure L'autista Perché non ce la faceva Respirare Non gliela faceva A un certo punto E poi Mi ricordo Che In quella fermata E' sceso Mezzo pullman Di solito Scende tipo Due tre persone Ma in quella fermata E' sceso Tipo Tutte Quasi tutte le persone Ma il bello Viene quando Mi alzo Per andare via Quando vado a casa Cioè io Per andare a casa Dovevo scendere Dal pullman Me alzo Dal pullman Io non lo so Penso che hanno buttato via Lo sedile Non lo so Me alzo Dal pullman Me giro un attimo Per guardare Era tutto Marrone Sporco De merda Ma proprio Era Era sporco Ma non De merda Non era merda Proprio come se fosse La cagata Che ne so Ma era proprio Tutta questa Era proprio Sporco De merda Tutto marrone Acqua Era tutto Sporco De merda Lo sedile Il problema E' quando Me alzo In piedi Quando Me alzo in piedi Io portavo Le mutande Larghe Portavo Le mutande Larghe Però non erano Tipo i boxer Erano tipo Gli slip Gli slip Però erano Un pochetto Larghi E come me alzo in piedi Sento Sento la merda Che me cade Giù I pantaloni Che me cala Fino le ginocchia Porca Troia Niente Prendo Esco Dalla vergogna Esco Dalla vergogna Esco Vado via Il problema Sapete Quale è Il problema Che io ero L'ultima Fermata Del pullman Perché Da Da Sandepid A mare Fino a Fermo Passa Per Mondurano Campiglione E Poi sale In su Per La In su Per la salita In su Per la salita Fa tutto il giro De fermo Poi ero L'ultima L'ultimo Che Che se Fermava Quindi Era un casino Era veramente Un casino Della madonna Quindi Quando sono sceso Dal pullman Cammino Ogni Camminata Ragazzi Era La merda Cadeva ancora Un po' Di più Un po' Di più Un po' Di più Ma veramente L'ave l'ho fatta A litri Non lo so Sarà stati Tre litri De merda Non lo so Ma tre Quattro litri De merda Non lo so Quanta cazzo Ne era De merda Ma era tanta Era Ma era tanta Tanta Era Praticamente Ogni Ogni Camminata Era E poi Ai tempi Ci andava De moda Di pantaloni Larghi I pantaloni Larghi Che non è come Adesso Che tipo No dopo C'è stato un periodo Che tipo Con i risvoltini Chi è che se li ricorda Con i risvoltini E quindi Ci andava De moda I pantaloni Larghi E io Mi ricordo Che Ogni Ogni Camminata La merda Fino a che Pure Sui calzini Mi è scappata La merda Tipo scappava La merda Dalli pantaloni Dalli pantaloni Mi scappava Mi scappava La merda Dalli pantaloni Torno a casa Torno a casa E il problema È che Mi madre Non c'era La chiamo Non mi risponde Non c'avevo Le chiavi De casa E mi sono rimasto Lì Così Con le spalle Sullo muro Con le spalle Sullo muro Ad aspettare Mi madre Che arrivasse Nel frattempo C'era la vicina Che era una bambina Vabbè Una bambina I tempi C'avevamo 15 anni Lei ce n'aveva 13 Credo No Io 16 Lei Io 16 Lei 14 Se non erro Sì Io 16 Lei 14 E c'era la vicina Che mi ha salutato Ciao E io Ciao Ciao Stavo lì Stavo aspettando Mi madre Quando è venuta Mi madre Mi ha fatto Spogliare Tipo Fuori da casa Non mi ha fatto Entrare dentro casa Mi ha fatto Spogliare Mi ha detto Ma che si è fatto Matteo Che è successo Che è successo E la mamma Mi giro Ero tutto sporco De merda Mi ha fatto Spogliare De fuori De fuori Mi ha fatto Spogliare De fuori Mi ha fatto Levare Tutti i vestiti Ha preso Un sacco nero L'ha buttato Via Tutti quanti L'ha buttato Via Tutti Piato Ha buttato Via tutto Ma come cazzo Fai Io ero Completamente Nudo Fuori casa Mamma mia Che schifo Ragazzi Mamma mia Che schifo Oh Tre litri De merda L'ho tirato Fuori E purtroppo La disenteria Quando ti prende Te prende È un problema Enorme La disenteria Che è diversa Dalla diarrea La diarrea È tipo Le scariche Tipo E ce ne poi Avevi più De tre Quattro Al giorno E la Disenteria Invece In che anno È successo Eh Facevo La terza La terza O la Terza O quarta Terza Terza O quattra Eh C'hai le lacrime Lo so Tu c'hai le lacrime Io invece Insomma Mi ricordo Adesso ci rido Adesso ci rido E ci scherzo Ma Ai tempi Ragazzi Mi vergognavo Tantissimo Per sta roba Mi vergognavo Tantissimo Non lo so Ragazzi Ma c'aveva Tipo Una puzza C'era Una puzza De merda Che non era Normale Non lo so Ma era Una puzza De merda Dentro Ma era Una cosa Che Sapete Proprio Love Marce Tipo Ma proprio Puzzava Tanto Puzzava Non era Puzza Normale De merda Ma era Puzza De surf C'era Una puzza De merda Dentro Quello Cazzo De Una puzza Non era Una cagata Normale Era proprio Puzza 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 Porco Diablo Non so Che cazzo S'ho tirato Fuori Dallo Culo Quel giorno Non lo so Ma era Qualcosa De incredibile Qualcosa Di Incredibile E come è andata Per fortuna Che non c'era Neanche un compagno De classe Dentro Dentro Quella Corriera Che tornava A fermo Per fortuna Non lo so Non lo so Ragazzi Ma qualcosa Era qualcosa Di incredibile A continua Necessità Di veguare Esatto Ma io proprio Non c'avevo più Lo stimolo Cioè No Lo stimolo Non riuscivo Non riuscivo A trattenere Non lo so Che roba era La essenderia Però Non riuscivo A trattenere Cioè Più chiudevo Lo culo E più usciva La merda Quando rilassavo Più chiudevo E più quando lo rilassavo Più merda Usciva E usciva Cioè Non riuscivo Proprio a trattenerla Era acqua Tipo acquetta Non riuscivo A trattenerla Era Ed è successo Tutto nel giro Dei 15-20 minuti 15-20 minuti Sì 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 La situazione Sì adesso Ci rido sopra Però ai tempi Non era Non era carina Come cosa Ma ci rido sopra Perché ci rido Però Grazie 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 mille Grazie mille Grazie mille Bellissimo Lo dopo Vuoi vedere Ma è difficile Lo dopo Grazie Fra basi Grande Torna più tardi Giusto No Alexa Muda Credo che tu Vogli ascoltare Modà Giusto Alexa Muda Alexa Muda Mutamento Di Mahler Da Amazon Music E' qua E' qua La calpegiana Alexa Muda Hai detto Riproduci Modà Porco di Muda Hai detto Riproduci Modà Alexa Muda Alexa 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 Gita Oddio Qua che season era Qua che season era Questo è fortnight Che season era questa Ma in generale un cazzo Che roba era Madonna che botta che ero L'ho 8 o 9 no 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 ma che questa era la prima season Una del primo Voglio la donna voglio la donna Chiappone la mia Oddio eccolo eccolo che visualizzò La Madonna di Dio Ma te l'hai vederli coglione o no? Ma ci stai nemmeno, ma ce ne rende Che Madonna Porca di quella ma... Porca Madonna Prova, prova Prova, prova Prova, prova Dio, rivediamo la cena Nonne raga, ma che? Passi a prendere, ma che sta a fare qui? Che sta a guardare? E io apri Ma che? E io sfonna Charlie, aiuto Charlie, dai la mano, Charlie, dai Dai la mano, yo, yo SS SS, yo, premi SS, yo Niente Ah, più veloce Yo, veloce, veloce, yo, apri Porca Dio, porca Dio, hai paura Sì, infatti Sì, sì, quando mangiavo li facioli Che cazzo cucinavo Facioli e carne macinata Sempre, tutti i giorni Facioli Facioli Cioè, proprio i facioli Erano facioli borlotti Buon Natale I don't understand, but it's okay Medi sogio, medi sogio Cazzo che roba Ma che? Un campionato porno? Che cazzo è questa roba? Men's team match final Ma è porno? Ma che? Porco di avro se grosso Porco di avro se grossi Ma che dai? Ma a me è una presa per il culo Cioè, per ride Cioè, per scherzo A me fa ride A me fa ride A me fa ride Pensare a questo contro di questo qua Che è? Secondo mo Ma immaginate Io faccio questo Ma sono forti questi? Rossa Rossa che significa? Russia Pol che è? Polonia Oddio, per un attimo Pensavo fosse un cazzo questo Pensavo fossero un pisello Carca troia Uh Mamma donna Sei cattivi questi Sono cattivi Ma che te Un'arena Con la sabbia Che c'è? Cad'è la terra? La sabbia? Che cazzo è? In semi final For the men's team On the east for rock Alex Vassili Ucala Si fan Vareci Vareci Con l'ex Sandro Minchia Ma scusatemi Questi Ehm Non è per cattiveria Non lo so Ma perché sono così grossi? Perché ci va di modo Di essere così grossi O Ma non è meglio Essere più Magri Più Più Muscolosi Non lo so I burroni Colliman Ah è lo sport Che te lo richiede Essere così Con tot grasso Dici? Più grosso Più forza Beh oddio Ronnie Colliman Era grosso Eh Ronnie Colliman Ma era più per Però era pure forte Ronnie Colliman Staccava pesi Dalla madonna Ma che è la faggione Madonna santa Eh su Guarda un po' Te guarda Con una paura Come se ci avesse paura Questo Ha detto Ma questo Mi si pia A me si magna Guarda 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 Qual è lo scopo Del gioco Ma poi perché portano Ste mutanne Ma che è Non asciugamano Ma che temo Può essere pure Che gli si è sposta Da una parte E gli si vede Il bucio Del culo Porca troia Porca troia Porca troia Ma che fa Ma che fa Ma che fa Ma che fa Ma che si vede Il culo Non è 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 Ma che si vede Il bucio Del culo Ma tra poco Ma io c'è pure Che gli si vede Il culo Ma che fanno Prendono Per sui lati Lo prendono Ma che fanno Ma se prendono sui lati Ma se prendono sui lati Ma se prendono sui lati Come funziona Grazie Prima a pigliarli Sul pisello Riporti a spasso Per tutto La urina Madonna Ah si mette a pegora Di come se stacca Ecco 1 kaga Ecco non Ti piace Ma Madonna Venite Mi Chi Mi 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 fate l'amore con il sapore ma madonna l'ha schiacciato l'ha sollevatoci cazzo l'ha sollevatoci quello è molto più forte quello magrolino lì questo è forte me sai sì ma dove vai ma dove vai ma dove vai ma mangia un po' di più ma mangia un po' di ma mangia due piatti di pasta in più ora si ragazzo ma dove vai competi con questo ma dove vai ma dove vai ma vince questo vince mani basse dai ma dove vai ma dove vai ma vince quello ma vince quello a sinistra dai ma quell'altro è troppo secco dai in confronto mi pare uno stecchino è uno stecchino dai come fa a perde dai dai su guarda come ti guarda brutto eh ma per forza dai per forza dai dai per forza è come cioè dai gioca scorretto dai ma dove vai ma dove vai ma dove vai ma guarda sta a ridere perché sta a ridere perché sta pure a ridere con la destra da ma dove è nata dai su i kiyotoshi win for bagaia ruslan of russia russia wins three to zero che è russia mondrucorina questa ah capito cosa è grosso cosa è grosso oddio cosa è grossi ma che è i mondiali bagaia ruslan kiyotoshi minchia ma quale i giapponesi non erano più forti i giapponesi ma i russi guarda poland and japan simple for poland liban matuis la madonna ma gli si vede tipo ma gli si vede tipo lupisello qua ma qua gli si vede lupisello ma gli si vede lupisello raga ma in questo sport gli si può vedere un cazzo no 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 aspetta io c'ho pure aspetta un attimo che devo vedere se gli scappa una pera porca troia io sto a pensare a questo qua se gli scappa una pera prima di cominciare la madonna è c'ho paura c'ho pure di farlo vedere perché è troppo è ciappura 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 madonna ma questi sono tutti con un cazzo e tu porca mutana ma qua gli si vede lupisello gli si vede miro ma questo che c'è sul genocchio i limiti io ti prendo io ti spiezzo madonna io seduti madonna chi vince? vince quello a sinistra dai guarda quanto è grosso porca troia come cazzo fai a perdere ma come fa a perdere quello a sinistra quello a sinistra non può a perdere oh no 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 non vale non vale gli ha fatto la cionghetta non vale ma non vale ma come ma che pure se uno cade per terra vale gli ha fatto lo sgombetto gli ha fatto ah allora e allora eh ma i giapponesi stanno un passo avanti su sto sport na madonna ma per diventare così grosso quanto tempo ci vuole? ma poi questi fanno palestra si allenano ma per diventare così grossi ma non penso che in un anno ce lo fai in un anno a diventare così grosso non è possibile no con le pocce qua con queste piaghe qua sotto con queste pocce qua no no per diventare così grosso ci vuole minimo dieci anni di cibo dieci anni di allenamento minimo dieci anni vabbè ma io andavo via perché dopo c'ho paura che me bannano comunque bello sport non lo sapevo oddio questo è lo sport pure pericoloso questo pure è uno sport super pericoloso questo con lo toro dio che paura qua dio cane dio cane dio toro che paura qua qua io c'ho una paura qua con i tori ma chi è che c'ha paura cioè io sta roba io sta roba non l'ho mai vista dal vivo però se mi dovessero pagare per mettermeli sopra esatto pure a me se mi dovessero pagare ma neanche per un milione d'euro dio hard hit trampled on the way out De Souza down uncharacteristic ma che fanno i ma che fanno a gara chi resta più tempo sopra lo toro dio cristo ma che scherzi ma te ammazza una roba del genere oh ma te ammazza ma una roba del genere te ammazza ma che cazzo di sport è dai ma che roba è c'era c'era il ragazzo di un'amica mia che conosco che si sono lasciati perché lei non sopportava l'idea che il ragazzo aveva questa diciamo voglia di fare sport pericolosi ma sport del tipo paracadutismo estremo in mezzo alle montagne dove passa lì oppure che ne so le scalinate le cose tipo le escursioni queste cose qua sport estremi oppure che ne so se butta da se butta da dalle cose dalle grattacieli con quello paracadute oppure che cazzo ne so perché ha rischiato la vita si è rotto tipo un paio di costoli non mi ricordo che cazzo si è rotto ma comunque ha rischiato forte la vita su sulle cose su come si chiama quelli là che vola su oddio aspetta no che vola sull'acqua le moto d'acqua non mi veniva in mente le moto d'acqua sulle moto d'acqua si è rotto si è rotto tutto si è proprio spaccato di brutto sulla moto d'acqua e niente da quando lui è andato in ospedale tutto dopo un anno di ospedale tutto che la ragazza gli è stato dietro tutto quanto lui ha voluto comunque rimettersi in piedi e andare beh oddio dipende come lo fai la moto d'acqua dipende come lo fai ha fatto un brutto incidente sulla moto d'acqua ha tutto ma era uno che faceva tipo l'agrobazie se era uno stuntman faceva tipo i salti sulla moto d'acqua faceva i salti faceva le capriole con cioè era uno stuntman e niente lui aveva sta cosa che proprio sta voglia di fare cioè sta voglia di fare questi sport estremi e e niente lei l'ha lasciato perché ha detto io non voglio che perdi la vita da qualche parte e poi ha detto che andava prendeva partiva andava fuori per un anno due anni e poi dopo tornava dopo otto mesi non sapeva se era vivo se era morto vabbè comunque e qual è la scena più pericolosa Mission Impossible poi da quello che so io Mission Impossible non so se lo sapete ma il personaggio del principale che è Tom Cruise esatto non c'ha una figura che gli fa le agrobazie è proprio lui stesso che fa le agrobazie questa è la cosa di gran lunga più pericolosa che abbiamo mai tentato ci abbiamo lavorato per anni gireremo questa scena in Norvegia e salterò con una moto da un precipizio come fosse un base jump Dio volevo farlo fin da quando ero un ragazzino alla fine conta solo una cosa il pubblico cioè non ho capito se butta con la moto da parapendì cioè ma dopo apri un baracadute scusate o no non è vero la scena più pericolosa che ho visto di sto personaggio è tipo che si aggrappava su un aereo si aggrappava su un aereo De Fori su che si aggrappava cioè come si chiamava non mi ricordo ci sono molti fattori in questa scena Tom Cruise ha concepito il piano per coordinare tutti gli esperti nelle diverse discipline coinvolte in questa acrobazia e renderla fattibile ma ve lo ricordate ragazzi John saltiamo fuori dall'elicottero e lui quando si era aggrappato sull'aereo in volo lì si era aggrappato sull'aereo in volo quello volava con De Fori che ha aggrappato porca troia io gli ho messo chiesto ma questo è tutto CGI si CGI il cazzo mi seguirà tutto vero questo ci ripetiamo sempre non devi essere cauto devi essere preparato un anno di addestramento di base jump skydiving avanzato controllo in caduta libera e controllo del paracaduto Tom Cruise è una persona fuori dal comune gli dici una cosa e lui la afferra al volo la sua percezione spaziale è eccellente la migliore che abbia mai visto in qualunque persona tanto tanto allenamento per la stabilità in caduta libera figure in caduta con John e Mike provando tante figure fino ad essere una vera squadra volante uno sopra l'altro uno sotto l'altro arretrando ed avanzando minchia cioè ma è qualcosa di incredibile abbiamo fatto prove su prove e ancora altre prove vedo tre paracadute aperte è un buon segno l'allenamento è andato molto bene abbiamo fatto grandi progressi ciao Mac come butta forca troia io con il cazzo questo è il prossimo allenamento motocross andiamo motocross io quindi andiamo alla pista di motocross per prendere confidenza con la moto così da poter saltare su rampe da 20 o 25 metri in scioltezza buon tempo di volo posizione di guida da manuale e buoni atterraggi devo diventare talmente bravo che sia impossibile per me sbagliare al trampolino avvicinati un po' l'esecuzione dell'acrobazia è solo il primo problema l'altro è quello di posizionare una cinepresa in maniera da riprendere quello che Tom sta facendo pure trovare la telecamera giusta le lenti giuste il drone adatto appena un paio di anni fa queste telecamere non esistevano non avremmo potuto fare ciò che stiamo tentando oggi ma è follia gli hanno fatto una specie di gabbia di fronte con le videocamere con degli obiettivi super stabilizzati ma è difficile significa che la telecamera deve essere di fronte a Tom il più vicino possibile sì è perfetto minchia ti alleni e provi ogni piccolo dettaglio poi ripeti ripeti e ripeti ancora facevano 30 lanci al giorno ad un certo punto è diventato una macchina più di 500 lanci 500 lanci al giorno 500 lanci al giorno come fai? cioè scusa se ne fai uno ogni 10 minuti ah non al giorno in totale è quello che facciamo più di 13.000 salti con la moto minchia ci divertiremo sarà fantastico wow abbiamo costruito una replica della rampa in Inghilterra dentro una cava abbiamo riempito il fondo della cava con delle scatole di cartone per attutire la caduta delle moto tutto questo per dar modo a Tom di simulare il salto a che velocità devo saltare quando devo lasciare il manubrio abbiamo realizzato modelli computerizzati di diverse rampe con diversi angoli ma madonna sai che paura per calcolare quale sarebbe stata la traiettoria di Tom minchia che roba in grado di prevedere la posizione di Tom nello spazio ma che Tom Cruise del mondo civerto a parte io non abitava al mondo civerto tridimensionale gli abbiamo messo un GPS per registrare ogni salto che ha fatto assieme alla velocità della moto alla direzione e alla intensità del vento ma questo vola ripetendo questo processo numerose volte abbiamo una quantità di dati sufficienti a determinare la posizione del drone in modo che mi ci possa avvicinare in volo regola numero uno non colpirmi col drone perché se facciamo tutto questo e non riusciamo a riprenderlo che senso ha metto sempre i tappi così non mi sento strillare va bene i tappi? ma senza gasco? la chiave è saltare alla velocità stabilita senza fare errori vedi non c'è tachimetro quindi vado ad orecchio quando poi lascio la moto sfrutto il vento inarcando la schiena per avere un po' di portanza ok ma alla fine qual è il risultato finale? il risultato finale qual è? è una madonna e qual è la difficoltà? le riprese forse vedo il paracadute qual è la difficoltà? forse che si è avverto non lo so avverto prima? grazie a tutti voi la madonna era tutto perfetto nulla di sbagliato la moto si è allontanata tutto bene molto molto bene minchia grazie amico credo di poterti ciao ando squad come stai? 33 mesi grazie mille tenere la moto un po' più a lungo è l'acrobazia più grandiosa della storia del cinema esatto non fa morire lui le si è lanciato con la moto da un precipizio per 6 volte cristo dio no madonna porca puttana che paura eh sì 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 che vuole fare cosa originale senza effetti addio cristo cioè proprio è qualcosa di incredibile questa è la allora ma ci stanno riprese ancora cioè tipo visto tom cruise aspetta non so se le si trova tom cruise aereo oh porca troia porca troia in un mondo normale non puoi lasciare tom voleva stare lì è una madonna vai vai fammi porca troia appeso questo è tosta eh questa è veramente tosta questo qua era sì era legato ma comunque oh raga la potenza di un aereo ma sapete quanto cazzo è forte la potenza quanto va veloce l'aereo è un aereo è un aereo